Mi accingo a esporre le conclusioni in rappresentanza della Sostampa, della parte civile Sostampa, sindacato unitario dei giornalisti, però prima vorrei poggere un saluto alla Corte come una volta si faceva, come facciavano soprattutto gli avvocati di un foro diverso, anche se io mi trovo in una situazione un po' particolare perché sono nato a Trapani e ci ho vissuto fino al 73, ho fatto l'alluvione, il 68 nel senso del terremoto, tutta una serie di cose. Però questa regola tengo a rispettarla perché comunque mi consente di rendere il mio modesto apprezzamento a un giudizio che è stato indirizzato, svolto nel rispetto delle regole procedurali con grande garbo, nel rispetto delle parti processuali e verso l'accertamento di quello che interessa a tutti i soggetti che partecipano a un processo, da questa parte, da quella parte, da quella parte, a tutti gli operatori che sono coinvolti e che hanno tutti un comune denominatore. La sostampa è, credo, la più antica associazione sindacale, la sostampa siciliana, che è stata costituita nel 1891, è la più antica associazione sindacale e addirittura precedente alla costituzione della Federazione Nazionale dei Giornalisti. Ed è stato già ricordato qui, è inutile che lo ricordi, sono stato ben preceduto da tanti colleghi che hanno ricordato quanti giornalisti siciliani sono stati uccisi, dal 60, credo, al 93, credo che siano 8 e Mauro Rostagno è il settimo. Tutti i giornalisti che sostanzialmente sono stati uccisi per una questione molto semplice, cioè perché facevano il loro mestiere bene, al meglio delle loro possibilità, con indipendenza, e siccome, come dice uno scrittore francese, scrivere è come uccidere, cioè la parola, la scrittura, il racconto è una cosa, diciamo che è una valenza molto pericolosa, sono stati uccisi dalla mafia, la quale non ha mai avuto esitazione alcuna, direi, a porre fine ad arrestare il cammino di chi pone ostacoli proprio con denunce, con racconti. Io avevo preparato una scaletta, ma onestamente questo processo, che è un processo molto complesso, che si è svolto con grande approfondimento e, come è stato giustamente rilevato, a grande distanza di tempo dal fatto, anche dopo aver sentito quello che hanno detto stamattina alcuni miei colleghi, avrei quasi deciso di cambiare ordine e parlare di un argomento che, quella che era stata una specie di suddivisione dei compiti, pensando anche alla complessità e all'ottimo lavoro fatto da chi sostiene la pubblica accusa, avevamo fatto tra le parti civili e a me, con una certa difficoltà personale, è toccato l'argomento che è stato sviluppato, diciamo così approfonditamente, verso la parte finale del dibattimento, cioè l'argomento legato alle parizie svolte a proposito dell'aspetto genetico del DNA. Che chiaramente è stato un punto molto, ma molto importante nel quadro di questo processo così lungo, e che ha fornito un elemento interessante, nuovo, che si è andato ad assommare a tutta una serie di altri elementi molto ben precisi e circostanziati che sono stati raccolti in precedenza. A mio modesto avviso mi pare che anche questo elemento tecnico-scientifico, che ora proverò un po' a esaminare, contribuisce a confermare il fatto che l'omicidio sia un omicidio da una matrice mafiosa e contribuisce a, sul piano della logica, che è poi quella che ci interessa quando dobbiamo pervenire a un giudizio, di escludere anche cosiddette piste alternative. Tra l'altro, grazie anche, diciamo, alla cura di questa Corte nei confronti di questo processo, questa perizia è un vero e proprio working in progress, nel senso che noi abbiamo visto e abbiamo potuto anche apprezzare, rispetto a un argomento delicatissimo e complesso, come vi siano stati, diciamo, due step, due passaggi, cioè una prima perizia che è stata portata al dibattimento e un approfondimento successivo. E questo si ricollega chiaramente al punto, alla delicatezza del problema di questo tipo di prova che normalmente viene detto in maniera sintetica prova scientifica e si collega al problema dell'ingresso, diciamo, della prova scientifica nel processo penale, nella valutazione che poi viene fatta. Cioè, siamo in un caso in cui praticamente la scienza irrompe nel processo penale, in settori di altissima complessità, di grandissima specializzazione, tanto per avere un'idea, studi che fruttano il Nobel a chi scopre questi pezzetti di DNA, questi codici che ci differenziano, di cui abbiamo tanto parlato. Ma non è solo questo, perché abbiamo visto che oltre alla individuazione del dato, diciamo nel dato tecnico, poi c'è un altro aspetto che è l'elaborazione statistica di questo dato che viene fatta sempre con tecniche che sono sempre più moderne, sempre più precise e quindi l'insieme di questi due elementi poi diventano un elemento unico di valutazione processuale, cioè il dato che viene offerto a noi qui, alla fine della perizia. Se andiamo alle ragioni della perizia che la Corte aveva ben individuato in quella ordinanza del, mi pare, giugno 2013, il problema è subito quello di una traccia biologica, se esigua o non esigua, è quello di effettuare una comparazione con il profilo genetico dell'imputato Mazzaro. Allora, intanto chiariamo che il risultato di una comparazione genetica può essere una completa difformità oppure una compatibilità. Cioè, normalmente, che cosa si chiede al genetista forense? Si chiede se una certa persona può essere escluso come colui che ha lasciato una certa traccia sostanzialmente sul luogo del delitto, oppure no. Questo è quello che normalmente viene chiesto al genetista forense. La prima parte della domanda può avere anche una risposta molto rapida, cioè se si determina l'esclusione per via della incompatibilità accertata di due profili genetici, la prima parte è assolutamente risolta. La seconda parte, invece, quello oppure no, è quello che, diciamo, involge più in ragionamenti complessi perché si passa ad una valutazione della frequenza nella popolazione di riferimento, nel nostro caso l'Italia, per esempio, che viene ricavata attraverso degli esami specifici perché nel tempo si sono costituiti, si sono raccolti tutta una serie di dati per cui gli studiosi, i tecnici, come quelli che noi abbiamo sentito, periti o consulenti, cioè da una parte, ammessi dalla corte o portati dalle parti, sanno, si determina una specie di sistema di dati in base al quale poi si può determinare praticamente un valore di frequenza che porta appunto a una maggiore rarità oppure a una minore rarità di un profilo genetico. Una cosa era, una volta, diciamo, era una qualcosa di assolutamente quasi troppo generalista, cioè quando si facevano questi accertamenti con il gruppo sanguigno, infatti poi hanno praticamente smesso di fare, chiaramente la percentuale, la frequenza di dati come il gruppo AB o 0 RH negativo o queste cose erano troppo alti per cui si avevano frequenze del tipo una persona su 10.000, una persona su 1.000, perché in pratica è il reciproco di questa frequenza che rappresenta il numero dei soggetti della popolazione di riferimento che condividono casualmente quel profilo genetico. Ora invece abbiamo sistemi informativi e informati sempre più ampi con delle frequenze tra i vari soggetti cumulative molto più basse. E quindi per esempio pensando anche a quello che qui in aula noi abbiamo sentito dal professore Presciuttini, uno dei tre periti, che giustamente faceva riferimento al gioco delle probabilità, il gioco delle probabilità dell'accusa e il gioco delle probabilità della difesa, possiamo, dico subito, chiarire che in effetti un dato l'abbiamo, nel senso che questi accertamenti non hanno escluso l'incompatibilità del profilo di Mazzara, anzi è risultato il contrario, cioè a dire il risultato della perizia, delle perizie, non è che Mazzara, il profilo di Mazzara è incompatibile con le tracce riscontrate, bensì che è compatibile geneticamente con quanto ritrovato in modo molto forte. Quindi abbiamo un aspetto tecnico e un aspetto statistico. Abbiamo visto che la genetica ci porta praticamente qui in aula i numeri a testimoniare, cioè allegati alla perizia, mostrati attraverso gli screenshot e gli schermi, ci sono tutta una serie di diagrammi come questi, ci sono tutta una serie di diagrammi elettroforetici, di numeri di cose che possono sembrare complicate, che lo sono, a chi ovviamente non ha questa frequentazione con questi argomenti, grazie. E questo potrebbe ingenerare, come dire, un po' di paura o qualche dubbio. Sicuramente nel gioco del processo, l'abbiamo visto anticipato da alcuni consulenti, si fanno delle osservazioni, si possono fare delle osservazioni a proposito della raccolta delle tracce, si possono fare delle osservazioni a proposito della quantità del materiale, però non ci dobbiamo fare, come dire, spaventare dai numeri, cioè nel senso che queste situazioni così complesse sono la norma degli accertamenti genetici, che è una scienza che va correndo molto velocemente, molto più velocemente di quanto corre il processo penale e che va migliorandosi e va progredendo man mano che avanza. Quando dicevo poco fa abbiamo assistito nella migliore tradizione del processo del nuovo vecchio rito dove la prova viene assunta qui, che non era nemmeno in vigore quando il povero postante è stato ucciso perché lui parlava col giudice istruttore. Abbiamo visto qui questa evoluzione dei dati, questo miglioramento, questo perfezionamento e questa è una cosa molto importante per valutare il risultato della perizia perché anche il metodo è una cosa importante, lì dove abbiamo sentito non ci sono delle regole determinate, valide, obbligatorie per tutti. Cioè, tanto per essere chiari e per essere anche brevi, per esempio nel nostro codice non è che c'è una norma che regoli il valore, la valenza dell'assunzione della prova scientifica. Gli americani nel 1929, non per dire che gli americani sono sempre americani, ma hanno introdotto nel 1929 una loro regola che poi hanno modificato 50 anni dopo. In Italia, con buona pace di tutti i RIS, ROS, come vi vogliamo chiamare, laboratori specializzati, gruppi specializzati, non c'è un codice di comportamento unitario per gli operatori che devono intervenire nel luogo dove è avvenuto un delitto. Non c'è. Io non lo sapevo, a furia, siccome il tema è interessante, sono stato costretto a studiare, ammetto candidamente di avere scoperto solo in questa occasione, grazie a una professoressa di procedura penale di Firenze, che c'è una circolare del ministro Fani del 1910 che sarebbe per gli studiosi l'unico documento scritto che dà, come dire, delle indicazioni per gli operatori di polizia giudiziaria in attesa che arrivi il signor pubblico ministero. Quindi quello che noi poi vediamo in televisione, che probabilmente abbiamo visto in parte il prodotto qui nell'ambito del gioco della difesa, poi vedremo quanto verrà sviluppato, sono tutte situazioni in un certo senso che nascono dalla realtà dei fatti. Perché il rischio intanto è quello della valutazione, dell'assunzione di un elemento, che poi diventa un elemento scientifico, molto tecnico, in un sistema processual penalistico che ancora non l'ha né digerito né metabolizzato. Chissà quanto tempo passerà evidentemente. Sappiamo che soltanto di recente è stato per esempio disciplinato il problema dell'assunzione dei campioni dai soggetti processuali. Sappiamo che si dovrebbe marciare verso la realizzazione di una banca dati. Sappiamo che in Inghilterra dove hanno la passione del codice genetico del DNA sono molto più avanti di noi. Forse negli altri paesi che hanno un'altra cultura giuridica, anche se poi dopo anticipo che secondo il ragionamento che mi sono fatto io, per noi poi operatori del diritto nostrano, in realtà è interessante notare che anche il nostro supremo giudice delle leggi si sta rifacendo alle esperienze di altri paesi. Nel senso che lì dove ci sono state delle sentenze che hanno individuato, la Corte Suprema Americana in particolare, un criterio per valorizzare questo caso, cioè quello di dover decidere su un dato che viene portato da un tecnico con delle regole che sono delle regole che possono essere anche delle regole non universali, non condivise, ma il giudice che fa? Non lo deve valutare? Allora bisogna trovare un sistema. C'è stata un'interessante sentenza che poi è stata ripresa anche in Italia in una sentenza della Cassazione abbastanza famosa che riguardava alcuni problemi dove il tema del processo coinvolgeva la valutazione della prova del dato scientifico. Allora, dice ma l'avvocato che cosa vuole dire? L'avvocato vuole dire che con grande correttezza i consulenti, per esempio anche nello scritto, nel loro elaborato, hanno detto con chiarezza il dato che forniamo è un dato che per le particolarità che vedremo si sostanzia in un rapporto di probabilità ed è rimesso quindi alla valutazione di chi deve giudicare, insieme quindi a tutti gli altri elementi disponibili. Questa è una cosa che non dobbiamo assolutamente perdere di vista, cioè un po' quello che ho detto all'inizio, cioè questa è una prova, è un elemento che ci si dà delle indicazioni, ma non è avulso da quello che è la cornice generale di questo processo. Oltre a tutte le tematiche, diciamo ben sviscerate stamattina, ce ne sono state tante altre a cui io non ho potuto assistere purtroppo e mi scuso anche con chi non ho potuto sentire, ma è chiaro che un elemento di un processo poi va valutato in ogni caso nel quadro generale di tutti gli altri elementi che questo processo ha raccolto e questo processo ne ha raccolto in molto altri. Perché? Perché in particolare poi alla fine la prova che ci hanno portato consente un accertamento che è basato sulla compatibilità che viene determinato in base a un calcolo. Quindi qualcosa che a noi può sembrare effettivamente molto, ma molto complesso, molto astruso, può sembrare difficile, lontano. Per esempio noi qui abbiamo sentito dire a persone molto qualificate, e io sono rimasto molto, ma molto sorpreso, che si parlava di elementi quasi inesistenti. Ma quando noi pensiamo che i tecnici vengono qui e ci dicono questa macchina che nell'arco del procedimento serve per fare la quantificazione della sostanza si chiama real time. Intanto un'osservazione logica molto semplice. La tabella della real time dimostra che se sono stati trovati 25 campioni, ce n'erano alcuni in cui il campione era undeterminabile, non determinabile. Dopodiché ce n'erano tanti altri che erano esattamente individuati. Quindi quando qua si viene a dire ma stiamo parlando del nulla, io rimango veramente sorpreso. Veramente sorpreso perché lo potevo dire io, Francesco Greco, fino a circa un mese fa, però che lo venga a dire il consulente a Garofano, io non riesco a capire che cos'è un picogramma, devo leggerlo. Cioè se un grammo è una cosa che già non vediamo, è un grammo, un picogramma è 0,11 e 1. Allora quando la real time dice, e i periti dicono, ha un funzionamento, è certificata, può arrivare fino a 6 picogrammi. Quando ci dicono la quantificazione, il concetto stesso di love copy number, love template, cioè questo, chiamiamolo, scusatemi, questo pezzettino piccolissimo di sostanza, è sotto i 100 picogrammi. Signori miei, dobbiamo semplicemente renderci conto che stiamo parlando dell'invisibile all'uomo, cioè stiamo parlando di qualcosa che soltanto chi ha una sensibilità, un'abitudine, una scienza, per questo dico sono rimasto sorpreso, perché tra l'altro non è che in questi pezzi, 11 pezzi, cioè noi non siamo nel caso per esempio del capello trovato o della gocciolina di sangue trovata sulla lama del coltello. No, noi qua, loro qui hanno trovato in alcuni pezzi che grossomodo io non li ho visti, non li ricordo bene, ho solo le immagini fotografiche, ma stiamo parlando sostanzialmente, se non ho capito male mi corregga l'illustre avvocato, esperto di fucili, sotto canna di questo fucile Breda, che è praticamente un pezzo di legno, molto bello, costruito appositamente per essere sotto canna, infatti voi avete visto che ha tutto quel reticolato ziriglinato perché serve proprio per essere a un certo punto, per favorire la presa, io non ho mai sparato perché non amo la caccia, io sono proprio la persona meno adatta a parlare di questo argomento, di fucili e di altre cose, però dico è evidente a tutti, una volta forse a un tiro di questi, quando si fanno nelle feste di paese, nelle fiere, esatto, queste cose sono proprio così, allora ma è evidente a tutti, dico anche a me, che quella particolare conformazione è fatta proprio per favorire la presa dell'oggetto, quindi noi possiamo immaginare, peccato che non ho portato qualcosa, ma insomma noi possiamo immaginare che uno porti il fucile così, lo impugni, se è destro, se spara con questa mano lo impugna così, e quindi in quella zona è molto, ma molto probabile, non ci vuole molto a comprenderlo ed è questo il problema di questo accertamento, stabilire questa cosa che è all'occhio di tutti, cioè se è stato trovato del DNA di questa persona lì, c'è una relazione tra quell'oggetto e quella persona, quell'oggetto è stato trovato sul luogo dell'omicidio, io odio l'espressione del crime, mi dà fastidio, concordo con qualcuno che è più autorevole di me, meglio dire luogo dell'omicidio, luogo del delitto, anche perché è stato veramente un brutto delitto. E comunque questo oggetto presentava all'evidenza degli accertamenti tecnici, diverse tracce di DNA che la macchina ha individuato, che ha evidenziato e che quindi ha consentito lo step successivo. Questo lavoro di questi signori è stato fatto veramente con grande coscienza e dobbiamo dargli atto anche di avere giustamente detto una cosa che è importantissima per tutti, cioè che hanno fatto la cosa con grande neutralità, che è una cosa che poi ci permette, ci dà ausilio per dare il nostro giudizio, per chi deve dare il giudizio, per fare la nostra valutazione e anche il fatto stesso che la Corte abbia nominato un collegio e poi integrato questo collegio con delle professionalità che sono delle professionalità diverse, con delle esperienze culturali diverse, questo poi è un ausilio per la valutazione del dato che dà il perito perché bisogna dare anche, cioè perché alla fine in realtà il giudice fra le tante cose considera anche il valore della persona, soprattutto quando è il tecnico che ti dice bisogna fare così, 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 così e poi bisogna fare tutto questo calcolo e poi dobbiamo controllare quest'altro calcolo. Però ti dice siccome è un calcolo per esempio, andando subito a una delle cose interessanti, siccome è un calcolo, tu lo puoi fare in una certa maniera, è un calcolo statistico, è veramente una cosa delicatissima, io sono franco, dico, l'ho premesso, tu puoi fare questo calcolo in un certo modo oppure lo puoi fare per esempio con il metodo bayesiano, quindi hai un calcolo di un certo tipo e un calcolo di un altro tipo e loro scientificamente, correttamente, neutralmente hanno fatto l'evidenza, hanno fatto l'evidenza di un calcolo e di un altro calcolo, cioè dimostrando a noi che abbiamo questo grosso problema davanti come la scienza è sempre una questione di passi dopo passi e soprattutto la scienza deve rispondere a una, soprattutto se entra nel processo penale, deve rispondere a una regola essenziale. Tu hai una prova scientifica se tu la puoi dimostrare, se la puoi ripetere, se la puoi verificare e loro hanno fatto questo diverse volte con i campioni, cioè li hanno sottoposti a una prima prova con un test di una macchina, vi risparmio il mio inglese per dire il tipo di macchina, diciamo SX, poi con il test NGM. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è un soggetto che è investito dalla giustizia di risolvere un problema complesso nell'ambito di un processo penale che ha una grande rilevanza, si pone il problema di rispettare tutti i dati che le sue conoscenze, in perfetta buona fede, gli possono portare per dare il giudizio, per essere in grado di dare un giudizio che sia il più completo possibile, anche se si sostanzia alla fine in un calcolo probabilistico. Ma in che tipo di calcolo? Il collega Lanfranca, che è una persona molto attiva, ha osato fare delle domande al professore Presciuttini, quando l'abbiamo sentito, e quindi ha provocato una spiegazione ancora più particolareggiata da parte di questi periti, che noi troviamo nelle pagine da 48 a 53-54, credo, dell'udienza del 14 marzo 2014. Cioè a dire, lì Presciuttini spiega, parte dalla domanda che fa il collega, dice ma cosa vuol dire molto forte? Perché loro a un certo momento, secondo un sistema, quantificano con della traduzione, sempre purtroppo l'inglese per certi versi è molto più immediato. La traduzione di una parola dall'inglese in italiano certe volte non rende. Allora, very strong, per esempio, se si diceva un americano ma un inglese è very strong, percepisce immediatamente qualcosa che se noi invece diciamo nel nostro bellissimo, fiorentinissimo, molto forte, non è la stessa cosa. Molto forte, very strong in questa scala significa qualcosa del tipo che in pratica ci sono 410.000, 435.000 probabilità in più che sia questa persona e non un qualsiasi cittadino della regione. E siccome io non sono bravo in matematica e siccome si parla di numeri, vi voglio provocotariamente ricordare che nella mia provincia di nascita, nel 2001, in tutta la provincia c'erano, per avere un'idea di quello che diciamo il professor Presciuttini ha cercato di rendere, c'erano circa 400.000 persone, cioè per avere un'idea di quello di cui stiamo parlando. Quindi quando per esempio si viene a dire che alcuni passaggi di questa perizia, di questo procedimento non sono stati corretti, non sono stati svolti correttamente, o che il dato di partenza era un dato troppo esiguo, secondo me siamo di fronte ad argomenti, è un argomento di forte suggestione, è un argomento che consente forte suggestione, ma siamo in presenza di argomenti altrettanto suggestivi. altrettanto suggestivi. E per esempio un'osservazione che i consulenti dei PM hanno fatto correttamente, molto correttamente perché modestamente ce ne eravamo anche accorti, quando si fanno dei confronti e si fa un altro ragionamento suggestivo, smontiamo tutto e ricostruiamo il DNA di questa persona con i pezzetti dell'altro. Tu lo devi fare rispondendo scientificamente al criterio, tu devi fare con gli stessi dati, non con i dati diversi. Tu lo devi fare con gli stessi dati. Scusatemi. Quindi ci sono tre campioni? Diciamo che ci sono solo tre campioni? No, perché in realtà studiando i due elaborati e sentendo e rileggendo quello che hanno detto abbiamo visto che ci sono tanti altri pezzettini di prelevati altri punti, ma ci siamo attenzionati soprattutto su tre campioni che sono stati anche visivamente, sempre grazie ai mezzi che questo processo ha avuto, abbiamo anche visivamente visto attraverso la ricostruzione tridimensionale fatta da Roccuzzo, abbiamo visto gli screenshot per posizionarci appunto, per darci quell'impressione di cui parlava un po' anzi, da dove viene l'A1, da dove viene il G1 e abbiamo visto che sono vicini, contigui alcuni, che sono opposti, cioè che danno proprio l'idea di una provenienza dalla complessità, dalla totalità di questo oggetto che è arrivato a noi in effetti spezzettato, rotto, danneggiato, frammentato. Erano diversi pezzi, poi ne sono rimasti, diciamo, per i primi lavori ne hanno fatti diventare 11. Quindi abbiamo tre campioni e poi abbiamo un'altra cosa sorprendente di questo accertamento perché è stato trovato un altro campione, cosiddetto A18, su cui i tecnici ci hanno detto che c'è un rapporto diretto, geneticamente diretto, molto diretto, con il genotipo del signor Mazzara. In realtà io mi sono andato a rivedere un po' tutte queste cose e gli elementi erano di più, cioè sono di più, però effettivamente con grande serietà loro hanno indicato quando poteva essere, diciamo, si può considerare, quando meglio non considerarlo. Quindi credo che il metro del lavoro di questi periti è stato veramente, ma veramente, passo dopo passo, molto, ma molto ben fatto, molto corrispondente a un approccio scientifico, timoroso, riverente, preoccupato, attento. Poi stiamo parlando di un qualche cosa che effettivamente coinvolge tutti, perché noi qui quanti milioni di, cioè stiamo parlando di una cosa effettivamente possibile, cioè perché uno può anche pensare ma è mai possibile che a distanza di 26 anni si trovano, no, noi qua siamo circondati dal nostro DNA epiteliale, quante cellule avremmo lasciato su questo microfono, sulle chiavi, sulle maniglie, cioè su qualunque oggetto, nelle nostre case, il nulla di cui si parlava prima, è tutto sui pavimenti, insieme alla polvere, che è costituito per la, sempre, basta che ci sia una sola di queste celluline che ha il suo nucleo e poi esaminarla. Quindi non c'è niente di impossibile, diciamo, è difficile, ma non è una cosa che... questo è il templato e tra l'altro questa è diventata la norma, nel senso che per quello che dicevamo prima, questi casi di prove di DNA sono sempre più frequentemente casi in cui abbiamo queste due situazioni. Tracce miste, cioè a dire dove vi sono dei contributori diversi, per onestà, bisogna ricordarlo, sono i problemi di questa certezza. Tracce miste è una quantità, diciamo, bassa, appunto, ma non è che il procedimento si ferma, non è che la scienza si ferma, non è che se quello è investito di un problema non ha i mezzi per risolverlo, perché questa cosa è nata, è nata proprio per gli accertamenti, diciamo, della... della stessa tipologia di metodo che hanno seguito, è quello che seguono per gli accertamenti complessi di paternità, cioè quelli in cui ci sono dei dati che mancano, per cui poi bisogna andare a fare naturalmente cose che possono fare solo gli americani quando ci sono grandi interessi economici in ballo, però ci sono per esempio i casi di morti di persone scomparsi, cioè la stessa cosa è sperimentata ormai continuamente, come si fa a dire che quella persona è morta? Ora, signori miei, per esempio anche fare il ragionamento che solo il trascorso, il fatto che il pezzo è vetusto, può essere, non è corretto, perché non è corretto, bisogna dirlo, cioè ci sono delle incidenze, ci possono essere delle... noi abbiamo visto per esempio che erano conservati nella carta, chiaramente se fossero stati conservati in altre condizioni ci potrebbero essere delle condizioni di mutabilità determinate, ma non è che il tempo, il trascorrere del tempo non ha consentito di individuare il DNA, certo quello era nel ghiaccio, l'uomo di Similam, come si chiamava, non mi ricordo, però dico il ghiaccio aiuta evidentemente, ma non possiamo dire che solo il trascorrere del tempo è un elemento che inficia. e quindi attraverso procedimenti abbastanza complessi hanno estratto pezzettini di DNA, li hanno perché abbiamo capito come fanno, hanno la scienza andata molto avanti e fa una moltiplicazione di questi pezzetti proprio per consentire la ripetibilità e l'esame e la verifica successiva, cosa che poi loro hanno fatto. In pochissimo tempo tirano fuori milioni di copie di questo DNA e lo esaminano, lo quantificano con la macchina, con la real time, dopodiché vanno praticamente a verificare questi famosi alleli, nel nostro caso gli alleli che ci interessano sono essenzialmente due, l'allele 11 e l'allele 17 che i periti ci hanno spiegato, sono caratteristici del genotipo del signor Mazzara e sono venuti continuamente fuori in questi esami. Quindi più volte vengono fuori, più il dato statistico poi dell'analista è condizionato da un dato oggettivo perché poi diventa un problema di calcolo, di mero calcolo oserei dire. E sono stati esaminati secondo delle soglie, cioè secondo dei criteri di misurazione dell'unità di fluorescenza e quindi l'hanno fatto con tre soglie, una molto elevata che è quella del laboratorio della polizia di Stato, un'altra 50 che è quella che è praticamente la comunità scientifica perché non c'è una regolamentazione, l'ONU non riesce a fare cose più semplici, figuriamoci se riescono a fare i scienziati del mondo, mettersi d'accordo e stabilire, stabiliamo una volta e per tutte che gli esami devono essere fatti in questo modo. In realtà non è così e non sarebbe in effetti forse per ora ancora nemmeno troppo scientifico. Quindi loro che fanno? 250 e poi hanno fatto il controllo a 20. Noi considereremo anche, prendiamo atto di quello che è stato rilevato anche dai consulenti della procura e dai consulenti della, cioè che il dato a 20 possa non essere corretto perché ti può procurare un maggior numero di drop in o drop out, però effettivamente dall'elaborato e da come hanno presentato a noi qui la cosa, si è capito il senso di questa operazione del 20 che è stata fatta da loro coscientemente, cioè a dire per dare una completezza all'approfondimento pur sapendo che il controllo a 20 può essere diciamo non corretto. Ma perché l'hanno fatto? Per dare una maggiore completezza, perché facciamo un discorso, un esempio molto molto al mio livello, diciamo al nostro livello. Insomma se loro vedono che a 50 ce ne erano 15 e a 20 ne trovano 17 è confermativo del numero delle presenze. Questo è il senso dell'operazione con cui loro hanno fatto questo controllo. Per noi è più che valido e sono più che sufficienti i primi due, cioè non è che nei calcoli che poi hanno fatto alla fine quando sono arrivati a quei numeri sconvolgenti per cui dicono 1 su 100 milioni loro non hanno fatto il calcolo con i 50. E i numeri sono esattamente questi, cioè effettivamente dei numeri di peso, cioè quando dicono che l'e1 il profilo composito è completo e fanno l'attribuzione in termini statistici e dicono circa 400 mila a 1. Poi fanno anche l'altro ragionamento, cioè cambiano lo scenario perché hanno fatto praticamente questi calcoli ipotizzando se erano presenti tre persone, quattro persone eccetera. E la percentuale non è che scende di molto perché le percentuali come quando eravamo all'università per riuscire a prendere poi il 30, se tu prendi 27, 27, 27, 27, 27, 27 rimani. È giusto? E quindi praticamente sostanzialmente 100 mila su 100 mila e 1, sempre 99 virgola seguito 4, 9 c'è. Non cambia di molto. Loro giustamente in maniera semplice, udienza, quella parte che vi ho indicato poco fa, lo spiegano con grande dimestichezza. Quindi abbiamo valori molto alti, ripetuti, in diversi campioni e che danno un'indicazione nella scala di molto forte. Questo abbiamo. Poi abbiamo anche diciamo a 18, l'ho ricordato poco fa, che indubbiamente rimane, è un dato anche questo che rimane. Quindi sostanzialmente loro hanno fatto, l'ho già anticipato poco fa, anche quella parte del calcolo che può sembrare molto complicata, cioè per il metodo dell'inclusione oppure del metodo bayesiano del rapporto di verosimiglianza. Questo l'hanno fatto sempre per dare, per rispondere al quesito e dare contezza della percentuale di probabilità che sia lui o della percentuale di probabilità che possa essere un altro. Dopodiché io mi avvio a concludere questo argomento, ringraziandomi in anticipo per aver avuto la pazienza di sentire un avvocato penalista che dice queste cose, che parla di queste cose veramente complicate, però mi voglio riallacciare a quello che dicevo prima perché poi in fondo noi il dato fornito dai tecnici nel processo lo abbiamo. Poi c'è un problema più alto che è il problema di collegamento con le categorie del decidere, dell'inserimento nel processo e delle valutazioni che vanno fatte. Allora poco fa mi rimettevo a quel discorso che appunto siccome è un ingresso diciamo quasi con i piedi uniti di un argomento tecnicissimo nel processo penale, queste tematiche sono in realtà vecchie, nel senso che c'è stato un professore per esempio che già nel 72 parlando del problema della prova scientifica e del libero convincimento ti diceva che le scienze possono aiutarti a creare nuove prove, possono aiutarti a decidere meglio. Infatti nel nostro ordinamento è rimasta come una prova atipica, noi discutevamo un'altra volta, ma se tu noi prendiamo gli articoli del codice la prova di questo genere è una prova atipica, proprio per fare, vorrei provare a tradurlo diciamo in termini più semplici possibili, proprio perché essendo una questione molto ma molto complicata che appartiene a un sapere che difficilmente può essere il sapere degli operatori giuridici anche dei più qualificati chiaramente il legislatore in un certo senso si è premunito e ha lasciato un mezzo di prova atipica per cui poi noi possiamo adattarlo in un certo senso a quello che è il caso concreto così come poi abbiamo visto che anche il perito, cioè la stessa valutazione, chi dovrà decidere, chi decide di fare la valutazione di questo elemento, poi è come il perito, il perito ha fatto diversissime prove, l'inserimento di questo dato caratterizzato dai suoi dati specifici, da alcuni elementi scientifici, da alcuni elementi logici che sono molto importanti poi va inserito in un quadro generale, tanto è vero che di recente, proprio di recente c'è stata una pronuncia sul DNA della Cassazione Penale che in maniera molto tranciante ti dice che gli esiti dell'indagine genetica condotte sul DNA ha atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, faccio un inserimento, perché la possibilità di errore è zero virgola, ecco, chiariamo la cosa, tale da rendere infinitesimale la possibilità di errore presenta una natura di prova e non di elemento indiziario ai sensi dell'articolo 192,2, nulla esclude che a tale risultato possa riconoscersi, allorché il calcolo si attesti comunque su una compatibilità elevata, pieno valore indiziario certamente grave che unitamente ad altri consente di risalire e approvare il fatto ignoto. Presidente Fiandanese del febbraio del 2013, 8.434, a novembre il Presidente Marasca ha immediatamente dato seguito a questa linea giurisprudenziale, nel senso che in ogni caso quanto meno se vi può essere un dubbio sulla certezza assoluta per quella infinitesimale eccetera, costituisce un grave indizio del. E questo in realtà proprio perché, come dicevo poc'anzi, sostanzialmente è stata dalla sentenza Corsini, mi pare che si chiamasse quella del 2000, sono stati recepiti i criteri della sentenza Daubert americana, che sono la verificabilità, la sottoposizione a controllo della comunità scientifica, la conoscenza dell'errore, la generale accettazione, oltre alla valutazione della identità e dell'autorità dell'esperto, della sua indipendenza e delle finalità per quali interviene. Questo chiaramente si può capire un po' meno da noi perché in realtà l'esperto nel processo americano ha tutto un altro ruolo e ha tutta, l'esperto del giudice e anche l'esperto della parte, soprattutto l'esperto della parte, ha tutto un altro ruolo, un'altra veste. E quindi io ho ottenuto fede all'impegno di parlare del DNA che mi sembra che è un elemento che si aggiunge a tanti altri elementi, si aggiunge, è una grande novità onestamente, a tanti altri elementi che sono stati molto ben rappresentati sicuramente dalla pubblica accusa e anche da tutti i miei colleghi delle parti civili che mi hanno preceduto. Io per la verità dovrei, diciamo, tediarvi almeno altri cinque minuti perché in maniera molto, ma molto, diciamo, piana, serena e ho qualcos'altro da dire su questa vicenda. E lo devo dire anche appunto per la parte che rappresento perché è giusto ricordare che anche se in Sicilia ci sono state categorie valentissime che purtroppo hanno avuto sacrifici in numero statistico maggiore e deve essere una cosa che fa riflettere il fatto che comunque in Sicilia a un certo momento i giornalisti vengano, quando è il caso, vengano eliminati. E tra l'altro alcune di queste storie sono, io naturalmente non le voglio raccontare nel senso che non fanno parte del processo, ma come dati storici è giusto che tutti quanti li ricordiamo, se qualcuno li conosce appunto magari si può documentare, perché alcuni di questi giornalisti sono stati uccisi anche semplicemente perché si occupavano di un argomento, di una sola inchiesta. Poi ci sono quelli che per un lavoro serio, io faccio due esempi, Spampinato a Ragusa, che era corrispondente di un giornale di Palermo che non so se è molto noto, il quale ha indagato a un certo momento su questioni che riguardavano l'estremismo nero in quella città eccetera eccetera ed è stato ucciso. Un processo importante per Ragusa perché coinvolgeva un parente di una persona molto importante in quella città. E poi abbiamo il padre del giornalista Fava, il giornalista Fava che abbiamo visto nel processo che ha fatto un lavoro, questi due mi sembrano sempre indicativi. Mauro Rostagno, qualcosa la voglio dire pure io, è in effetti, diceva il pubblico ministero, come era l'espressione, perennemente controcorrente, qualcosa del genere. Mauro Rostagno è una persona che si definisce nelle lettere che sono contenute nel faldone A o B mi pare della produzione che la Corte ha guadagnato, le lettere spedite o ricevute, le lettere spedite queste a Curcio, è una persona che si presenta in maniera molto semplice e dice a un certo momento di sé sono coinvolto nella televisione al cento per cento. Ci sono queste persone che sono così e quindi cento per cento se fa il militante di lotta continua, cento per cento se si mette a fare il giornalista. Io so che la Corte è molto attenta e sicuramente avrete letto tutte queste lettere. Io credo che i miei colleghi hanno fatto veramente un lavoro importante perché il recupero, qui c'è, in questo processo c'è la rappresentazione sotto forma multimediale ma anche la carta scritta delle lettere che ha un sapore più autentico perché è legato a un periodo dove ancora per fortuna scrivevamo le lettere e tra l'altro che lettere perché voglio dire è paradossale nella storia d'Italia che la corrispondenza a una persona con nome Renato Curcio diventi per noi un elemento essenziale. Pensate solo quanti operatori del settore giustizia o servizi segreti avranno visto questa, ci hanno messo il visto, questa corrispondenza dove Rostagno gli dice mi hanno minacciato nel processo di, io lo dice subito. Allora queste lettere danno l'idea di una cosa che non so se riesco a dire bene, questa persona ha avuto, oggi abbiamo un presidente del consiglio che ha fatto del proprio agire il mito della velocità, Rostagno è stato veramente una persona veloce perché se noi guardiamo le date perché poi in questo mare magno di cose di questo processo forse ci sono solo alcuni elementi e alcuni periodi, io questo adesso mi accingo a dire, che focalizzano forse l'accentuazione di una crisi che determina lo stroncamento del giornalista che fa un lavoro troppo preciso, troppo a largo raggio perché non c'è un argomento che non abbia toccato e drammaticamente se ci leggiamo le lettere ci rendiamo conto che siamo ancora agli argomenti che Mauro Rostagno ha indicato, l'immondizia, i servizi sociali, la scuola, il malaffare, la cattiva amministrazione, il ceto politico, ma per esempio c'è quel passaggio in cui dice, ah ci prendono per pazzi perché praticamente noi non paghiamo il pizzo, invece pensano, si offendono, cosa che soltanto noi siciliani possiamo capire effettivamente, lui era, credo che fosse piemontese, giusto, di origine, quindi noi dobbiamo avere uno che dal regno sabaudo viene qua e ci pitta in una lettera a Curcio in questa maniera bellissima dicendo, ci prendono per pazzi noi che non siamo dei polli perché si offendono, perché il pizzo è una cosa, come non ti cerchi il padrino politico, infatti se, come è che diceva oggi l'avvocato, usiamo il rasoio, l'avvocato dello Stato, non mi viene il cognome, Vivacqua, grazie Presidente, l'avvocato Vivacqua diceva usiamo il rasoio, ma di che cosa dobbiamo parlare delle indagini economiche? Ma se lo scrive a Curcio che hanno un miliardo, spendono un miliardo e non avevano i soldi e ti dice pure, in questo processo c'è il morto che dice tutto per lettera, cioè è cronaca di una morte annunciata, più annunciata di questa non ce ne poteva essere, dice pure per l'86 ci spetterebbero 250 milioni nella provincia, noi abbiamo perso del tempo, abbiamo ritrovato il finanziere, è venuto, ha fatto il controllo e ci ha confermato, sì in effetti la provincia gli diede nell'86 250 milioni e che sono? E 250 milioni nell'87, ovviamente non glieli diede nell'86, nell'87, quindi tutte queste problematiche economiche riguardano altri fatti, riguardano altri finanziamenti, uno sviluppo della comunità che è avvenuto dall'89 in poi, basta, giusto? Chiuso? Poi chi ha patteggiato ha patteggiato perché ha fatto un errore, perché lì è pure descritta, la signora dice poverina, piange perché lei ci ha messo la firma e non facciamo altro che fare debiti, quindi quella si ritrovò con le mani proprio in pasta precise. Poi se Cardella ha fatto quello che ha fatto, il personaggio che era Cardella è inutile, ma è un argomento che direi chiuso. Altro argomento, i tossici che vanno a eliminare il rostagno con un fucile calibro 12, Breda e una pistola P38, fra l'altro faccio un inciso, io sono veramente dispiaciuto perché questo processo ha avuto qualche accidente, ma appena a dibattimento si è parlato di indagini balistiche, si è parlato dalla pistola, è sparito il proiettile, non è arrivata la comunicazione che non si trovava il reperto del proiettile P38, che ha avuto una sua essenziale funzione perché quel giorno ci deve essere stato un incidente, non voglio entrare nella ricostruzione che hai fatto tu, che sarà stata perfetta, però non è un caso che in quell'occasione la P38 è stata usata e quindi noi dovremmo ritenere a fronte di una serie di elementi processuali che indicano che ci sono gli imputati, che sono stati giudicati responsabili per omicidi commessi con una tipologia non molto simile, di più. Ho avuto la possibilità di leggere la sentenza Halloween e nella sentenza Halloween si parla dell'omicidio Monteleone, mi pare che si chiami, questo omicidio è avvenuto in una zona che credo si chiamasse, forse sbaglio nome, non so, Baglio Galluffo, niente a che vedere ovviamente, è chiaro, è chiaro, è però è descritta nella sentenza e sembra un pezzo della strada che noi non siamo andati a fare, o meglio noi l'abbiamo fatto questo sopralluogo diverse volte, ma che abbiamo visto nell'ottimo lavoro che ha fatto il perito, cioè a dire una stradina sterratina che si stacca dalla, perché dice no la mafia no in quella zona, ma scusate proprio la mafia di quella zona, campi campi, stradine stradine, si muove, conosce palmo e albero, c'era un albero dietro al quale si è appostato per sparare a un altro, c'era un grande albero lì vicino poco prima di dove la macchina è stata fermata, ci sono stradine che non spuntano e che vengono ripercorsi indietro, l'ho aspettato dice Mazzara, dice Patti, l'ho aspettato in macchina nella Fiat 1, partivano sempre da Dattilo, dallo svincolo di Dattilo, perché forse lo svincolo era in effetti, c'è un problema di date che sono successive, sono dal 91 in un po', partivano sempre con la Fiat 1, sempre con questa tipologia qua, allora questi sarebbero un omicidio fatto dai tossici della comunità. Invece che cos'è? Invece è che questo è stato troppo bravo e soprattutto troppo veloce e mi accingo a concludere, perché una persona che dice nelle lettere, a luglio, ed è luglio dell'87, ho cominciato a fare questo lavoro in televisione con i ragazzi eccetera, che a settembre spiega a Curcio, sono gasatissimo perché la televisione sta andando alla grande, tutti la vogliono vedere, c'è stata una valente studentessa che si vuole avvicinare a questo mondo, che si è soppercato il lavoro di guardare tutte queste trascrizioni eccetera. A un certo momento un giorno è venuto e diceva, ma avvocato, appartemontanti? Cioè tutti sapevano, tutti non si perdevano questo programma. Dico perfino una persona che non conosceva l'omicidio Rostagno per problemi di età, perché è così giovane che praticamente il fatto Rostagno l'ha conosciuto attraverso questo processo. Allora studiando si vedono tutte queste cose, cioè leggendole nelle carte, ma soprattutto c'è da parte dello stesso Rostagno la spiegazione al Curcio di quello di cui si sta occupando. Ed è una cosa che, dico, basta andarsela a leggere, non è inutile che la ripeto, a memoria più o meno mi ricordo. Non c'è un argomento di quelli importanti che non sia rappresentato nella lettera del 24 di aprile. Egli parla di Ciaccio Montalto, egli parla della massoneria, che è la chiave di volta, ora ci vuole proprio per usare un termine massonico, la chiave di volta di questa vicenda è sicuramente la massoneria. Io credo che l'omicidio Rostagno sia una grande occasione persa, non soltanto perché noi abbiamo perso veramente una persona di valore, ma è un'occasione persa per la giustizia e come dice lui nel redazionale di marzo, è un'occasione persa per la democrazia. Cioè quello che stamattina il collega, io l'ho molto apprezzato, il collega che difende il comune di Erice, e l'ho apprezzato anche perché in effetti fino al 73, fino al 16 gennaio del 73 io ho vissuto a Trapani, sono rimasto legatissimo a Trapani, continuiamo a venire spesso frequentemente, siamo legati a questa città, tanto che a casa a me mi chiamano il Trapanese, e questa è una cosa molto divertente, per cui essere l'estraneo è la cosa che per esempio ha aiutato moltissimo Rostagno, che è diventato molto ma molto più appunto interno e siciliano di noi. Allora, quando gli va a dire gli argomenti, gli fa una lezione che è da portare ai ragazzi nelle scuole, in 36 parole gli spiega tutto quello che sta succedendo in quel momento in Italia, perché c'è una cosa importantissima che dovete cogliere, cioè quest'uomo ha iniziato a lavorare a luglio dell'87 ed è stato fatto fuori il 26 settembre dell'88, quindi non venitemi a dire che non bisognava guardare al lavoro, a quello che si occupava, perché è chiaro che quando uno muore così rapidamente dopo aver fatto il giornalismo si improvvisa, di sé dice sono diventato un capo televisivo, non lo ero, è stato fatto, devo dire, bisogna dargliene atto, veramente un precursore. C'è un'altra cosa interessante che vi segna, due cose interessanti, ha fatto il ring con i politici e a un certo momento spiega a Curcio, ora loro vogliono venire qua, perché era successo che era diventato effettivamente il centro, cioè era un centro, quindi a un certo punto il politico non poteva rimanere fuori dal ring di Rostagno, doveva accettare il confronto, andare là e mettersi guantoni, e ha fatto un'altra cosa grandiosa che la RAI ha fatto soltanto molti anni dopo, lui ha fatto Mediterraneo e gli hanno copiato Mediterraneo, lui ha preso il tunisino e gli ha fatto fare 5 minuti, lui, e ci sono lì in quella lettera tutte le spiegazioni di quello che ci riguarda ancora adesso, cioè ah ma non è che possiamo avere 5 milioni, l'immigrazione, il problema dell'immigrazione, perché noi effettivamente siamo nel Mediterraneo e il problema di Trapani è proprio, di Trapanum, è proprio che Trapani è nel Mediterraneo, era crocevia di tutta una serie di situazioni che sono state da altri molto ben indicate, io ho l'impressione netta che questa occasione persa è perché i tempi di pochi atti ci dicono che nell'arco di 2-3 mesi lui effettivamente è impattato in qualche cosa che rappresenta con chiarezza e che però poi attraverso purtroppo l'assunzione, il contatto con un personaggio come il luogotenente Cannas in un certo senso si perde, perché se noi andiamo a vedere quello quello che lui scrive a Curcio è quello che lui, che è aprile, è quello che lui a febbraio dice nell'interrogatorio che è stato acquisito e poi a marzo quando lo chiamano subito perché esce con il problema del servizio sulla loggia scontrino, ci rendiamo conto che effettivamente questo signore in un verbale un po' strano, che avrebbe studiato molto approfonditamente e nuclea tutta una serie di argomenti senza che il suo interlocutore che dovrebbe essere interessatissimo all'argomento perché i carabinieri e la polizia indagavano da parecchio tempo prima sulla loggia scontrino lui in effetti fa il riferimento per esempio al traffico di armi eccetera, questa è una cosa molto pericolosa che è venuta fuori lì, ma poi abbiamo dei collegamenti, la loggia scontrino, processualmente è stato accessato abbiamo risentito la signora Filippello, ma secondo me è un'impressione chiaramente il rapporto come un'impressione non è, poteva essere l'inizio di un approfondimento, cioè quello doveva essere l'inizio di un approfondimento che è mancato, quelle indicazioni, quelle cose, a suo tempo certo, a suo tempo è mancato questa è la cosa veramente grave, quindi quando lui va a dire e scrive quello mi dice che sono graziosi i miei servizi però devi smettere di rompere il 30 di aprile va a fare una denuncia per il caso Manu Guerra che era la minor cosa fra tutte perché ha pure ospitato Manu Guerra in televisione che gli è andato a cantare le cose, quindi è una persona che ha chiaramente fatto capire di avere la consapevolezza di avere passato un limite e ha preferito, ha fatto la denuncia anche per Manu Guerra, questa è una cosa molto importante, molto importante, una persona che crede nello Stato che è abituato a parlare con Cannas e che comunque va a fare la denuncia anche per il caso Manu Guerra, quindi deve essere successo qualcosa e questo qualcosa è come quello a cui accennava il collega e effettivamente è principalmente la loggia Scontrino è tutta una serie di cose, io credo che noi in effetti dovremmo fare come diceva lui uno sforzo perché in una cittadina di 60-70 mila abitanti quando si verifica il caso Scontrino lì dentro in quel periodo così ma signori me, significa veramente lui dice che è una questione di democrazia infatti come conclude il coso del redazione del marzo dicendo, invitando alla interpartitica perché all'epoca c'erano i partiti e facevano la riunione, quindi i partiti di opposizione e rimandando al Consiglio Comunale quindi è un giornalista improvvisato che raggiunge grande livello che raggiunge argomenti scottanti, che si rende conto che li denuncia, non smette mai di denunciarli e che invita, riporta alla riassunzione del controllo da parte della comunità sui fatti della comunità perché questo è il senso di quello che faceva la comunità credo di non avere altro da aggiungere quindi mi riporto le conclusioni che ora se le trovo qui in mezzo le deposito chiedo avrò dimenticato sicuramente qualcosa ma i miei colleghi sono stati sicuramente molto più bravi di me nel rappresentare c'erano degli appunti che avevo preso ma credo che possa bastare così Presidente quindi concludo come la comparsa che deposito chiedo che venga riconosciuta la responsabilità penale degli imputati mi riservo di depositare sì perché abbiamo studiato più DNA che è il testo nuovo grazie